in questo video voglio mostrarti perché io ho praticamente abbandonato il trading classico e il lavoro solo con opzioni questo qua è il titolo ferrari azione ferrari che nel giro di poco tempo poche settimane si è ritrovato dai 122 che valeva a circa 84 quindi un titolo piuttosto volatile che si muove entro poco tempo come abbiamo visto anche qui c'è un bel rialzo bel rialzo poi risceso comunque fa dei bei movimenti ora ultimamente nell'ultima settimana poco più di 56 giorni il prezzo attestato il livello di 84 per 2 3 4 giorni e poi esploso al rialzo e in poco più di 5 6 giorni è passato dagli 84 ai 96 euro adesso ha toccato il 61 8 di fibonacci sta ritestando un po il livello ma io prevedo che nelle prossime settimane il prezzo potrebbe fare un ulteriore rialzo quindi ho deciso di costruire una strategia rialzista con opzioni e adesso te la spiego un pochettino questa qui è la strategia che io ho costruito e questo è il pay off della mia strategia qui vediamo profitti e perdite linea dello zero e prezzi in modo messi disposto in modo crescente quindi se il prezzo va verso destra significa che sul grafico sale se il prezzo va verso sinistra significa che sul grafico scende adesso più o meno e sui 97 io mi sono posizionato con questa strategia da qualche ora sa il prezzo è ancora fermo e mi aspetto e nei prossimi 34 giorni abbiamo di scadenza il prezzo salga c'è da dire una cosa io non aspetto mai la scadenza e adesso ti spiego perché la linea rossa indica il profitto la perdita al momento in questo momento e ogni giorno che passa tenderà a prendere la forma della linea blu che è il profitto perdito perdita a scadenza quindi abbiamo una perdita massima stimata di 260 euro a scadenza se il prezzo resta più o meno fermo però visto che il titolo è molto volatile io mi aspetto che esplode al rialzo però come spesso accade la previsione sbagliata il prezzo ci può andare contro perché ti dicevo abbandonato il trading classico perché se a me adesso il prezzo spara in pochi giorni arriva ad esempio a 108 andrei da subito a guadagnare sui 120 130 euro se poi mi fa uno proprio di quelle sparate come ha fatto già in precedenza tipo questi quali può raggiungere i livelli ad esempio di 116 vado per assurdo in pochi giorni adesso qua c'è diciamo intorno ai 116 sarebbe qui andrei a guadagnare 878 quindi a fronte di un rischio massimo di 260 andrei a prendere 8 900 se il prezzo entro 30 giorni va qui ma io dico anche meno perché io di solito non aspetto mai la scadenza c'è da dire un'altra cosa che il prezzo è vero sì questa è la previsione se va a favore ma può andare anche contro come spesso accapita dalle nostre previsioni se entro i prossimi giorni il prezzo invece di andare a 97 mi dovesse tornare per dire intorno ai 34 85 come stava una settimana fa aspettando qualche giorno andrei a chiudere quest'operazione con un piccolo profitto quindi non perdo magari non prendo 100 ne prendo 50 non lo so dipende dal momento perché come abbiamo detto questa linea assumerà la forma di questa blu ogni giorno che passa quindi se il prezzo tra cinque giorni sarà qui magari questa linea sarà più sopra e mi darà un profitto ipotetico almeno di 50 euro ora c'è da dire che è vero che questo è il mio rischio massimo stimato però come vediamo la linea rossa adesso è quasi vicino allo zero diciamo mi da una perdita di circa 60 euro se il prezzo resta fermo io mi do una regola uno stop personale cioè se entro ad esempio la prossima settimana qui etnao dove mi da il profitto e la perdita io non vedo un numeretto verde cioè un profitto chiuderò questa strategia quando qua sarà in perdita se il prezzo da qua non si muove alla svelta cioè se resta qui per 30 giorni però se a me una settimana resta qui e qua vedo non so 70 80 euro 90 euro ma massimo 100 euro di perdita chiudo tutto quindi il mio rischio massimo non è 260 ma è all'incirca diciamo un centinaio d'euro ma proprio massimo massimo quindi però a fronte di 100 euro se in 30 giorni fa una bella sparata mi arriva per assurdo a 117 potrei andare a prendere anche intorno ai 900 mille euro c'è da dire un'altra cosa e qualora il prezzo ad esempio tra tre giorni si trovi qui e già mi da un profitto io posso già chiudere subito e vabbè questo l'abbiamo detto ma posso anche diciamo modificare la strategia e portarla sopra lo 0 cioè che significa che non posso più perdere nel senso che anche se dopo dovesse girarsi dovesse andare sopra tornare dov'era mi darà comunque un piccolo profitto cioè non potrò assolutamente più perdere quindi posso pensare di avvicinarmi alla scadenza massima ma io non l'aspetto ma cioè anche se arrivasse al 32esimo giorno comunque la chiudo ovunque si troverà il prezzo non aspetto mai l'ultimo giorno ecco questo è il vero motivo il quale mi ha fatto abbandonare il trading classico poter avere due probabilità su tre di avere ragione